La maggioranza, con l'appoggio di Pace e l'assenzione di Mollica, ha respinto la mozione di sfiducia e il presidente Pittella ci ha accusato di seminare odio, senza però mai entrare nel merito delle questioni. Così i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Gianni Leggeri e Giovanni Perrino, commentano il dibattito in aula sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni, a seguito dell'inchiesta giudiziaria sul petrolio in Basilicata. A parere dei due esponenti politici, quando la maggioranza è stata messa davanti ai fatti, il nervosismo l'ha fatta da padrone. Le sorgenti radioattive dimenticate nel sottosuolo di Corletto Perticara sono solo un brutto ricordo, lo stato comatoso in cui versa l'ARPAB sembra essere una delle prerogative inseguite dalla maggioranza, il registro tumori si trasforma in una grandissima vittoria, ma sulle cause delle patologie tumorali si glissa clamorosamente. I tentennamenti e le negligenze su Tecnoparco sono sottigliezze da poco. Caro presidente Pittella, concludono Leggeri e Perrino, anche se non ha voluto rassegnare le dimissioni, anche se non le piacciono i nostri modi di comunicare, sappia che saremo sempre qui a combattere fino all'ultimo giorno di questa legislatura, denunciando tutte le ipocrisie di questa classe politica e difendendo strenuamente la dignità del popolo lucano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.